Parotecnica devi chiarire qual è quello più tecnico e qual è quello normale tra i fuori ma no, tu capisci ma no, non è riguardo le fuori non ci vuole guarda ci vuole per me, non c'è un po' di sforzo per me, non c'è un po' di sforzo ma non c'è un po' di sforzo ma se mi viene se sono fai la distensione capito? se fuori che si andano dopo chiesi un po' di sforzo fuoco quello del fornello della cucina, fuoco di paglia, fuoco di paglia, fuoco di cognome, fuocchino, fuoco di carriamo, fuoco di sant'adono, città di fuoco. Ma chi si è usato qui si uscita l'hanno spettata proprio qui? Chi si è usato qui? È il zombardo? No, no. No, è sotto, è sotto. Sulla destra di qua? È sotto, è sotto. No, si rimane a casa. Dov'è? Allora... guardate qui? Se l'ha avuto, c'è telèmo! Ma c'è quella? Ma c'è questa more... Ha morto quando ha fatto delle bucce... Ma toccare? Ma lo faccio vedere... La forza piaccavo che devi parlare. La c'è il piede! Ma là non c'è Ebbe, ma la c'è più l'alta tensione! La c'è quando c'è, è più l'arga e non c'è. che cazzo ormai ho avuto dei corsi ormai si potevano fare si organizzavano le sport delle persone si potevano andare probabilmente la penna sapesse in una città si vuole andare un'autobot per le persone proprio con una manca proprio con un motore che si spugge la visita è la mia ragione ma che vuoi dire in Inghilterra? l'Italia è la mia la mia azione comune con i popieri ma che stai dicendo in Inghilterra? non è proprio con il cao fuggio sono bombisti forse con bombisti ma che stai dicendo perché loro? non state pagate chi l'ha sparato con l'artificio proprio quello che l'ha sparato non che l'ha tirato in un'autorizzazione e per te mi ha detto un po' di cimenti non c'è l'oliva non c'è tutto peccato non era un po' di cimenti se no lo chiamo un po' di cimenti però non vengono noi da spargere non vuole ma lo chieni qua non è pazzo adesso ti sono anche lì Non è una cosa che la città è notte. che lullani è pericoloso è vero che sta sottacca gire dal rete dove sta girando ma che se è piccolo si potesse fare ci fanno dicci a noi è una ricotta non è nessuno non ci si sperano guarda la natura giù giù ma non c'è polla voi i pompieri? è i foverini è il ragazzo ma hai chiamato a lui i giù sui passavate? non c'è, era la scabonina non c'è? era la scabonina non c'è? non c'è il ragazzo 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 Alla vanno adesso qui sotto con una croccia che si muove per la volta. Ma qui sotto non potevano fare, vai. Chi lo gira del lavoro? Perché sta girando? Ne vediamo un po' prima. È ancora meglio. Luna! ん Apo di se fanno scara così. Apo di se fanno scara di ar했어요. Non si sono già ero. Vediamo un po' prima volta. E' con i mi sono qui. seguite il suo nome e il suo cammone è un altro posto non ci foto perchè non sono utilizzati e ci fanno disto qua, dove stai? e io, a questo campone... che la bomba voglio... dove? c'è il tapportello, il gatto è il tapportello, qui... qui a porta, qui a porta, le bottino che è un vento un gatto è il tapportello un gatto è il tapportello ma che ci fanno l'erba pisse? c'è l'erba pia, c'è i rapporti i pecore, c'è l'erba pia cosa c'è? più bella è birruva verde, puoi vedere quando nasce a San Diego di fumo che calandare così ci vede direi le due mie ma se si c'è pedonata o si ferma? e l'ho fatto casaccia a prenderla che l'ha sempre lo pizzo gli ullani il franceschettarone ti fa a pagare pure i cappucci come era quanto cappucci che ci dice? lo faranno poco che ti sta a prenderlo sei a mia chi sai quanto si interessa di me sto a prenderlo proprio a mia ahi sono pure all'isombra che tipo chi sta a prenderlo? e cosa ti basta? chi è preoccupante qui qui va tutti i giovanni baciati davvero tutti quelli hai la mamma gli ammo gli amm è morto è morto di crepacolo ma non è un po' il quattro di me si muove si muove si muove si muove si muove si muove prima ma è pieno e mi raccangiano vai mutando che fa caldo questo hanno un po' la cucina si muove ma non è proprio ma si muove non sono non sono che ci succede ma non ci sono ma non si muove la prima non ci sono e le ingegna A me ha detto guarda come c'è l'ordenanza sui chiacchierci Aspetta qua, andando con l'olio e l'aiuto al fattore Stai qua, e dove dove andare?